Facciamo un po' di spesa come fanno gli americani. Sapevi che per gli americani fare la spesa è una grande esperienza? Gli americani amano comprare tutto in pacchetti enormi per non andare a fare la spesa troppo spesso. Tuttavia quando fanno la spesa possono dedicare metà della giornata a questa missione. Compriamo un po' di frutta e verdura. Questo ci durerà forse un paio di settimane. In California molte persone acquistano alimenti bio e si sente davvero la differenza tra biologico e non. Ora sono in un negozio di alimentari dove puoi comprare tutto all'ingrosso. Guardate questo sacchetto di riso! Se non ne mangi troppo meglio non prenderlo. Costco è in realtà uno dei miei negozi alimentari preferiti perché qui ho un sacco di offerte. Posso acquistare prodotti europei a un prezzo molto buono e molti negozi di alimentari americani sistemano tutta la spesa nelle buste per te alla cassa. Non è necessario farlo da soli. Grazie e arrivederci!